e c'è la macchina oh Leo ecco ok fatta eh ma io c'ho caldo 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 vado ciao registra ma il pallino rosso ti ha lampeggiato? no è lampeggiato è fisso eh? va bene, va bene, là sta registrato va bene è quasi si, si, si sta registrato ciao è tutta a tepita da zionella grazie tutta a zionella signora che dice? dopo porti le foto a tavola che porti te? porti le foto dopo a tavola tu vado e mi ha detto da fare riprese contenta? sì è riuscita è riuscita è riuscita uno che fai? ti vergogna? ti vergogna? eh? ti vergogna? e come vai? tutto bene? tutto bene? quanti siete famiglie? pochi andate in vacanza stanno sì allora non ti spiego e vedete lì chi sa vince? chi vince? chi vince? è riuscita tracca e c'avevo pena per qua ragazzita che il tempo non nessuno Guarda 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 Forelli, tutti a mangiare gelato chi te vuoi? Guarda, guarda, guarda. Tutti a mangiare gelato. Senti, facciamo una foto simpatica. Vi affacciate pian piano a vent'anni? Io basta che giro il naso e ho fatto. Ciao. Guarda, guarda, dove siete andati? Oh, 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 oh. Io non vedi? Leo, devi vedere il naso, tanto mio. Ti vorrei sbrigare, che no, mi sono giuro. Ti faccio, ci fa ora, ci faccio, ci faccio, mi fai uccidere. Ti faccio, ti faccio. Melissa, Melissa. Vabbè, fate voi. No, per tilesimo, vedi. E dai, vai. Oltre noi te, oltre chi pince, oltre chi pince te. Ecco, le tre. Don Antonio con la macchinetta. Questa da un tempo posizione cuore povero. Perché c'è la pancia di cuore. Posso vedere, posso andare a fare il culo mia cucina? Come te pare, vai quella che fa. Diretta mondiale. Sì, non è una foto questa, è una ripresa. In doppia detta. Ah, in doppia, scusa, me l'ho sbagliato. Mi ammazza tutto il cuore. Ah, sì, faccia una foto, però lei o non lo riprende? Ecco, se ci riesci, si è inferrato. Stavo per cancarci al muro. Te giro, li devo per una settimana. Ah, Sergio, mi fio. Ecco, me. Non è foto, è ripresa. Non è foto, è ripresa, lo so. Ma come ti c'è di una volta? Non c'è... Piano, eh, piano, piano. Sì, si fa così. Basta, stiamo sul l'ape. Sul l'ape? Ma io mi piace molto. Oh, dalle, 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 hai preso quel pallone, eh? Guarda. Dalle, dalle, dove sei preso, eh? Così, va. Dai, non c'è l'attacco. 8-9 anni, una bambina molto brava. Non c'è l'attacco. Guarda, guarda qua sopra. Cosa si è messa? Si è messa, adesso gravi. Siamo di tattupare. Tanto si mette la musica di questo, lì. Oh, avanza via. Oh, avanza via. Elisabetta, 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 Elisabetta. Ah, ma ci stanno tutti i genitori. Elisabetta, tutti gli sposi devono fare una foto loro un po' dopo di me. No, non c'è. No, no. Vai, tutti ammolbiamo. Ti chiedo, vai. E' ta, oh. Un caso è lì via. Andiamo, andiamo, andiamo. Non ti ragazzi. E' un ragazzo. Alessio! Non ti ragazzi, non ti ragazzi. Non ti ragazzi, non ti ragazzi. 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 Sì, non lo so, non lo so. Guarda che stai a fare! State io in telefono! State io a cercare la vera! Aspetta, la faccio io! La faccio con il telefono! Di mezzo di volta, a mezzo di... Un euro, un euro! Un euro che sei! No, un primo piano, un tetto! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, ci penso di... No, non sono passi a... Non ci penso di stare! Dai, chiamate! Siamo passati... Non ci penso di stare! Non lo vedo, non ci penso! Ok... Non ci penso di stare! Non ci penso di stare a guardare... Grazie. Grazie.